Sloga! Allora, per iniziare con il video oggi vi ricordo che trovate sia in libreria che su tutti gli store digitali tra cui anche Amazon che trovate l'incanto di scritto qui sotto, il mio nuovo libro Cosa Guardo? Un emozionario del cinema una guida su film e serie da guardare in base al umore del momento e ci saranno altre presentazioni ve lo posso confermare, non vi posso ancora dire le date perché bisogna avere il via libera ma è cosa quasi fatta quindi almeno un altro paio, ma forse anche tre, tra aprile e maggio si fanno per cui poi vi darò maggiori informazioni e grazie per il supporto che state dando al libro che è enorme io non vi ringrazierò mai abbastanza poi vi ricordo che sul sito ipumpling, che trovate linkato qui sotto, trovate ancora l'offerta per cui se comprate tre magliette le pagate 10 euro l'una, quindi il 3x30 in sua impressione vedete alcune delle magliette più carine tra quelle in catalogo in questo momento se al vostro acquisto aggiungete un paio di calze alla vostra scelta dal catalogo e usate il codice VILASLO le calze non le pagate e date un'occhiata al link in descrizione perché trovate tutte quante le magliette in catalogo così potete vedere se ce ne sono altre che vi piacciono o altre quelle che vi sto mostrando quindi detto questo, bando alle cianci, iniziamo subito con il video di oggi perché c'è tantissimo da dire sigla Allora, la scorsa notte si è tenuta la cerimonia degli Oscar del 2024 e io, come ogni anno, vi devo ringraziare perché questa è stata probabilmente la live degli Oscar che ho fatto sul canale più seguita in assoluto ringrazio tutti voi, tutti quelli che hanno guardato e guarderanno la diretta che trovate su YouTube nella sezione live perché è rimasto ovviamente e ovviamente tutti quanti i miei ospiti che erano tantissimi ed è stata una serata veramente tanto divertente quindi grazie di vero cuore a tutti per aver partecipato in qualche modo ed è stata un'edizione molto equilibrata secondo me ha vinto il merito nella maggior parte delle categorie cosa non proprio frequentissima per quanto riguarda gli Oscar io ho adorato Everything Everywhere All At Once ma ad esempio l'anno scorso quel film ha vinto 7 Oscar e non è che fossero proprio tutti meritatissimi diciamocelo, quest'anno invece secondo me ha vinto chi doveva vincere ci sono state anche un paio di sorprese per certi versi gradite per altri che mi hanno lasciato a bocca aperta per vari motivi e c'è stata la sorpresa peggiore ovvero il fatto che tutte le testate dicevano che gli Oscar sarebbero iniziati a luna invece sono iniziate mezzanotte per via del cambio dell'ora legale negli Stati Uniti America solo che qualcuno ha iniziato a dirmelo poco prima della diretta ha detto ma non è possibile, non è possibile anche in live ma che cazzo dite, che cazzo dite avevano ragione quelle persone quindi mi cospargo il capo di cenere e non ne aveva idea nessuno lo stesso Michele Innocenti che era tra gli ospiti che è uno che comunque è molto esperto di Oscar è entrato dopo a mezzanotte dicendo ma ragazzi ma perché cazzo sono già iniziati manco lui lo sapeva quindi insomma non abbiamo avuto il tempo di fare i pronostici come avrebbe voluto infatti io pensavo di stare iniziando la live due ore prima invece abbiamo iniziato un'ora prima proprio perché non sapevamo che sarebbe iniziata a mezzanotte in quanto tutte le principali fonti di informazioni davano l'inizio della cerimonia a luna di notte vai a capire come mai non ce ne siamo accorti vabbè però non è un problema perché tanto comunque abbiamo iniziato prima e non ci siamo persi nulla della cerimonia è stata una cerimonia secondo me un po' noiosetta nella prima parte poi si è un po' ripresa ci sono stati un paio di momenti a livello di performance simpatici cito John Cena nudo poi non era proprio nudo perché aveva una mutandina che copriva con la busta però l'idea era che sembrasse nudo per premiare i migliori costumi poi il momento Schwarzenegger e Danny DeVito che hanno recitato insieme nel film I Gemelli di Ivan Reitman negli anni 90 che durante la premiazione ha iniziato a guardare male Michael Keaton perché entrambi sono due cattivi di Batman e Michael Keaton è stato Batman nei due film di Tim Burton e quindi insomma è stato un momento divertente poi la performance della canzone I'm Just Can cantata da Ryan Gosling con Kingsley Benadir Shuti Gatua e Simu Liu che erano gli altri Ken nel film con Slash che suonava la chitarra e ho scoperto che non era lì per caso ma effettivamente nella canzone come l'abbiamo sentita anche durante il film la schitarrata era la sua era lui che suonava la chitarra quindi non sapevo di questa cosa a vederlo sul palco mi ha fatto morire da ridere e i più colti sanno che Slash non esiste ma che sono sempre stati i nostri genitori che si travestivano per farci credere che effettivamente fosse una persona reale che ha visto South Park sa di cosa sto parlando comunque io sono sinceramente stato molto colpito per quello che è successo durante la serata perché ci sono stati dei momenti non indifferenti e tra l'altro quando ci sono state le nomination c'era stata la polemica su Margot Robbie che non è stata candidata come miglioratrice protagonista per Barbie e l'Academy è stata attacciata all'isessismo ecco questa credo sia una delle edizioni in cui sono state premiate con merito più donne in assoluto in varie categorie e non perché bisogna premiarle in quanto donne per essere inclusivi no 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 sono tutte premiazioni stra-iper-meritate quindi è stata un'edizione anche da quel punto di vista molto interessante e un'edizione che è andata contro quelli che sono i dogmi politici dell'Academy e questo non me lo sarei sinceramente mai aspettato perché c'è un premio che io davo per certo e infatti ho chiesto scusa anche in questo caso perché durante la serata tu dicevamo vince quello vince quello ma che cazzo dite smettete di dire queste sciocchezze invece va a ragione loro e quindi sono rimasto sorpreso perché sono andati contro una cosa che per me era certa in virtù del fatto che solitamente ragionano in un altro modo per cui una cerimonia dove hanno premiato chi doveva essere premiato nella maggior parte dei casi e ci sono state anche delle sorpresine non indifferenti che adesso vado a elencare ovviamente smartphone alla mano perché altrimenti io assolutamente non ricorderei tutto a memoria perché ho la memoria di un pesce rosso e quindi ho bisogno di un supporto visivo tra l'altro la cerimonia è stata presentata a Jimmy Kimmel che a me quando presento gli Oscar non fa impazzire ma quest'anno non è stato poi così male poi c'è stato anche il discorso del regista del documentario 20 Days in Mariupol 20 giorni a Mariupol che è stata ha fatto un discorso molto molto bello sulla questione della guerra in Ucraina che vi invito a recuperarvi tra i momenti salienti più interessanti della serata allora partiamo con il miglior film c'erano American Fiction di Cor Jefferson Anatomia di una caduta di Justin Trie Oppenheimer di Christopher Nolan Barbie di Greta Gerwig The Old Overs Decisioni di Vita di Alexander Payne Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese Maestro di Bradley Cooper Past Lives di Celine Song Poveri Creature di Yorgos Lantimos e la zona di interesse di Jonathan Glazer sapevamo che avrebbe vinto Oppenheimer però dopo la sorpresa verso la fine ho iniziato un po' stringere il culo ho detto non è che vogliono farci lo scherzone anche col miglior film e invece no per fortuna ha vinto Oppenheimer è stata la serata di Nolan Oppenheimer ha vinto 7 Oscar Poveri Creature 4 e la zona di interesse ben 2 gli altri hanno vinto generalmente un Oscar quindi è stata una serata molto monopolizzata c'è da dire questo però sono contento per Christopher Nolan perché è un regista che peraltro è al suo quarto film consecutivo che vince almeno un Oscar è un bel record anche se per quanto riguarda i precedenti erano più che altro Oscar tecnici però sono sempre Oscar quindi questo sono 4 film a fila che riesce a vincere almeno un Oscar e stavolta ne ha vinti ben 7 io gliene avrei date anche 8 o 9 onestamente ci sono un paio di categorie in cui mi sarebbe piaciuto che vincesse Oppenheimer ma non è accapitato va bene così voglio dire non è un grosso problema in realtà 7 vanno più che bene mi fa un po' ridere che ne ha tanti quanti ne ha presi Everything I Were All At Once che ripeto finché a me è piaciuto un sacco ma che forse è stato insignito di un po' troppi premi rispetto a quelli che meritavano ma va bene così non importa quindi ha vinto Oppenheimer contento per Nolan peraltro Oppenheimer Film che è stato prodotto anche da una donna per parlare di quello che dicevo prima il fatto che ci sono stati tanti premi meritatissimi a donne dell'industria e Nolan aveva il sorriso a 32 denti come dice mia madre quando parla di qualcuno che è molto contento di qualcosa gli rideva anche il buco del culo è questa espressione idiomatica che mi affascina sempre per cui premio assolutamente meritato Oppenheimer è un film che è riuscito a portare in sala la massa e lo ha fatto pur essendo un film di tre ore di soli dialoghi comparti anche in bianco e nero che è una cosa che di solito risulta molto respingente è diventato un vero fenomeno complice anche il meme del Barbenheimer ma non è stato solo quello e per quanto mi riguarda Nolan ha vinto con un film che onestamente era quello giusto io lo reputo ancora oggi il suo miglior film a distanza di mesi dalla visione l'ho visto sette volte e continuo a pensare che sia il suo film più bello anche se io amo anche The Prestige però per questo per me è un pochino sopra il film più completo più maturo di Nolan e non è come quei registi questi attori che vengono caldeggiati spesso agli Oscar finché alla fine non gli danno un premio che però viene dato proprio la volta in cui non se lo meriterebbero tantissimo ad esempio Di Caprio ha vinto l'Oscar per The Revenant in cui è stato bravo e niente da dire però secondo me se lo sarebbe meritato molto di più per ad esempio The Wolf of Wall Street per dire quindi succede a volte che una persona viene premiata l'anno in cui magari se lo meritava va di meno ecco con Nolan no migliore regia Jonathan Glese per La Zona di Interesse Jorgo Slant Timos per Povele Creature Christopher Nolan per Oppenheimer Justin Trier per l'anatomino della caduta Martin Scorsese per Killers of the Flower Moon ha vinto Nolan a maggior ragione credo che fosse giusto darglielo io l'avrei dato a Scorsese se avessi dovuto scegliere ma perché? perché Scorsese per quanto mi riguarda ha realizzato un film incredibile ma non solo è uno di quei registi che quando viene candidato per me potrebbe tranquillamente arrivare vedersi consegnare un carrello con tutti quanti i premi e andarsene via felice ma ovviamente non si può fare ho notato che tante persone sono rimaste indignate per il fatto che Killers of the Flower Moon se ne sia andato a mani vuote ora lo so che può sembrare una cosa assurda ma in realtà è normale Scorsese vinse con The Departed e è raro che un regista quando vince così tanti premi in una cerimonia in una edizione degli Oscar poi ne vinca altrettanti in categorie importanti successivamente devono passare un po' di anni poi ci sono delle eccezioni per l'amor di Dio le eccezioni ci sono allo stesso tempo non è una cosa che mi stupisce ripeto che questo era l'anno di Oppenheimer io ho preferito anche di più Killers of the Flower Moon ma non sono minimamente deluso si sapeva che sarebbe andato via quasi del tutto a mani vuote mi aspettavo che almeno un premio l'avrebbe vinto non è stato così è un peccato però non è la mancanza di Oscar a rendere Killers of the Flower Moon un film poco meritevole rimane comunque un filmone della madonna che piaccia o non piaccia cioè registicamente non gli si può dire un cazzo per me era superiore ad Oppenheimer però ci sta a darlo a Nolan perché comunque anche lui se lo meritava quest'anno il livello era talmente alto che se anche ci fossero state delle grosse sorprese come in effetti è avvenuto in alcuni casi io non avrei detto beh perché comunque non si tratta quasi mai di ladrate in questi casi perché ci sono tanti film meritevoli e anche tanti addetti ai lavori meritevoli come ad esempio anche attori e attrici ecco quindi io contentissimo per Nolan che finalmente dopo tanti anni di buonissimi film è riuscito a realizzare quello che lo ha portato a venire premiato con l'Oscar alla migliore regia miglior attore c'erano Bradley Cooper per Maestro Kylian Murphy per Oppenheimer Paul Giamatti per Di Old Over la selezione di vita Colman Domingo per Rusting Jeffrey Rai per American Fiction allora in realtà il favorito assoluto ormai era Kylian Murphy che ha stravinto nella stagione dei premi che si sta concludendo all'inizio c'era il testa a testa con Giamatti poi è stato chiaro che Giamatti difficilmente avrebbe vinto e quindi ha vinto Murphy meritatissimo faccio sempre il solito discorso Murphy è uno di quegli attori che ci ha messo tanto per arrivare a questo punto lui nonostante fosse nell'industria come attore da più di vent'anni è stato riconosciuto dal grande pubblico solo grazie a Peaky Blinders lui era in 28 giorni dopo era in Sunshine era in Batman Begins era in altri film di Nolan ma fino a Peaky Blinders il pubblico non se l'è mai cagato più di tanto e adesso con Oppenheimer ecco che è diventato un attore iperquotato io sono contentissimo e l'ha preso dopo tanti anni di gavetta per così dire io ho fatto questo discorso nelle ultime settimane devono smetterla di dare premi alla prima occasione in cui un attore un'attrice un regista ha fatto qualcosa di buono perché è sbagliato fai fare un po' di esperienza prima di far arrivare agli Oscar certo poi ci sono quei casi in cui è innegabile che l'interpretazione la regia è qualcosa di straordinario allora non puoi non darglielo ad esempio volevo che vincesse Lily Gladstone perché sì è vero che era il suo primo ruolo importante però è stato un ruolo incredibile poi non è un'attrice poi così giovane cioè non è una ragazzetta quello intendo quindi ci sta no quindi non è non è non è Eddie Redmayne che è la prima cosa buona che ha fatto come la teoria del tutto su Oscar Rami Malek Freddie Mercury Tom Oscar aspetta aspetta un attimo quello dico perché poi non erano interpretazioni così tanto esagerate l'anno in cui ha vinto Redmayne secondo me doveva vincere Michael Keaton un attore ben più rodato Redmayne poi aveva sicuramente l'opportunità di vincere l'Oscar magari in futuro poi è un po' sparito anche perché di solito danno questi riconoscimenti e molti di questi personaggi finiscono un po' nel dimenticatoio per motivi strani non si sa bene perché quindi contentissimo per Killian Murphy e per l'Oscar più che meritato miglior attrice qua arriva il momento della sorpresona penultimo premio Annette Bening io ho già fatto questo discorso mille volte quindi lo sintetizzo penso che il testa testa siccome era tra la Stone e la Gladstone dico che la Gladstone è stata per me un po' più brava della Stone perché il suo era un ruolo molto più intimista non era un ruolo in cui poteva esprimere le emozioni in maniera evidente il personaggio era succube era spaventato quindi lei ha dovuto tenerla un po' dentro a questa interpretazione era un'interpretazione fatta di sguardi di alzate di sopracciglio di linguaggio del corpo è stata veramente brava la Stone è stata bravissima secondo me il suo ruolo era relativissimamente più facile perché è un personaggio che mostrava una vastissima gamma di emozioni però è stata brava siccome poi la Gladstone è anche la prima donna nativa americana a ricevere questa candidatura io pensavo che quello unito a fatto soprattutto che lei fosse stata bravissima le sarebbe valso l'Oscar invece a sorpresa per quanto mi riguarda ha vinto Emma Stone e io ci sono rimasto e non sono scontento certo mi dispiace per Lily Gladstone sicuramente però non posso negare che sia stata bravissima anche la Stone che a 35 anni si becca il secondo Oscar il primo lo vinse per la La Land porca vacca è stata bravissima e anche lei non ci stava credendo quando hanno detto il suo nome era stralunata perché le due si sono suddivise un po' i premi in questa stagione e la Gladstone non venne neanche nominata e BAFTA ha vinto il SAG sappiamo che chi vince il SAG solitamente all'80-85% vince anche l'Oscar questo è uno di quei casi in cui non è accaduto a riprova che è vero che l'incidenza di attori e attrici che vincono il SAG e che poi vincono l'Oscar è alta ma non è una cosa matematica per cui per quanto io possa aver adorato Kill the Silver of the Moon e l'interpretazione della Gladstone sono comunque contentissimo per Emma Stone che in Povere Creature ha regalato Bella un personaggio eccezionale che ha interpretato benissimo quindi nulla da dire come ho detto prima non è un furto perché il livello era molto alto e quindi chiunque altro avesse vinto sinceramente non mi avrebbe creato problemi migliore attore non protagonista Sterling K. Brown per American Fiction Robert De Niro per Killers of the Flower Moon Robert Downey Jr. per Oppenheimer Mark Ruffalo per Povere Creature Ryan Gosling per Barbie ha vinto Robert Downey Jr. per Oppenheimer un ruolo incredibile che lo ha interpretato benissimo altro attore che l'ha vinto l'Oscar al momento giusto lui ha avuto una carriera travagliata candidato all'Oscar per il film su Chaplin nel 93 poi la galera l'abuso di alcol la detenzione di armi insomma tutto questo casino si risolleva con il ruolo di Tony Stark poi rischia di rimanervi intrappolato se ne va prima di andarsene prova a fare qualcosa di più serio con The Judge ma non viene cacato quasi nessun premio poi prova a fare qualcosa di più commerciale simpatico con Do Little ma il film è un flop e viene anche massacrato dalla critica si dà alla produzione insieme alla moglie che ha ringraziato dopo ogni premio vinto in questa stagione dei premi gli stava andando bene aveva anche prodotto Sweet Tooth la serie Netflix finché come detto nel discorso di ringraziamento Nolan lo ha chiamato è il tuo ruolo perfetto per te e lui l'ha reso in maniera fantastica è un villain straordinario il suo Strauss ed è stato bravo e come ha detto anche Michele Innocenti e gli altri ospiti è una performance che si gioca sui dettagli anche la scena per chi ha visto il film in cui lui sta parlando nello studio e ha l'aria franta e poi si gira e ecco che sorride da bravo politico quello è proprio un gesto di bravura attoriale straordinaria quindi per me non poteva non vincere Robert Downey Jr ha fatto anche un discorso toccante in cui ha parlato della sua infanzia non proprio facilissima è stato bello è stato veramente bello miglioratrice non protagonista Emily Blunt per Oppenheimer Divine Joe Randolph per gli Old Overs Daniel Brooks per il colore viola Johnny Foster per Naiado oltreoceano America Ferrera per Barbie ha vinto Divine Joe Randolph che ce l'aveva già a casa lo stava lucidando l'Oscar perché era sicuro che avrebbe vinto esattamente come Robert Downey Jr non c'erano dubbi e infatti non ci sono state sorprese gran ruolo il suo per me è stata bravissima quindi Oscar più che meritato e ripeto non penso che ci fossero altre possibilità poteva essere solo lei quest'anno migliorazione di giottura non originale Greta Gerwig e no Baumbach per Barbie Christopher Nolan per Oppenheimer Cord Jefferson per American Fiction Jonathan Glaser per la zona di interesse Tony McNamara per Povera Creatura allora qui mi fa molto ridere perché secondo me American Fiction che ha vinto quindi ha vinto Cord Jefferson in questa categoria non è un film da Oscar è un film molto divertente molto carino candidato a 5 Oscar e ha vinto la migliore sceneggiatura non originale tratto dal romanzo Erasure di Percival Everett e la cosa divertente è che non si meritava l'Oscar così come non si meritava di essere un bestseller il libro scritto dal protagonista del film interpretato da Jeffrey Wright è un paradosso cioè questo l'Oscar ad American Fiction per la migliore sceneggiatura non originale è una performance artistica degna di Marina Abramovic è un regista e sceneggiatore Cord Jefferson che decide di adattare un'opera letteraria folle e il film rimane intrappolato in quello che critica perché era così che voleva che fosse Cord Jefferson la cosa divertente è che all'Academy hanno premiato questo film esattamente come il romanzo dello scrittore protagonista del film viene usandato da tutti anche se era una burla cioè l'Oscar American Fiction è una raffinatissima burla e io penso che Cord Jefferson non ci credesse neanche lui come a dire oh ma hanno abboccato se guardate il film capite cosa intendo e ci sta che l'abbia vinto ci sta perché è quasi un esperimento sociale e francamente va bene io qui l'avrei dato onestamente a Glazer per la zona interessa anche perché ho letto il romanzo da cui tratto dopo aver visto il film e vi posso dire che per me il film è nettamente meglio e questo significa che è un adattamento che funziona di più per cui avrebbe dovuto secondo me prenderlo tra l'altro per me è una vergogna che Killers of the Forever Moon non sia stato nominato in questa categoria perché non ha senso che ci siano la Gerwig e Baumbach per Barbie che si per l'Academy conta come film come sceneggiatura non originale perché è tratto da un brand ma poi è una storia originale non mi metto Killers of the Forever Moon che è un film che ribalta la prospettiva del libro in cui il personaggio che nel film è interpretato da Jesse Plemons è il protagonista e quello interpretato da DiCaprio è un personaggio importante ma non il protagonista già solo per quello vuol dire che l'adattamento comunque è molto ponderato e non me lo candidi neanche per me è assurdo mi è andata così migliori sceneggiatura originale David Emingson per The Old Over Selezioni di Vita Justin Trie e Arthur Harari per l'anatomiglia di una caduta Sammy Birch Alex Mechanic per May December Bradley Cooper e Josh Singer per Maestro Selinson per Pass Lives allora hanno vinto la Trie e Harari per l'anatomiglia di una caduta parliamo un attimo però di Emingson allora innanzitutto l'anatomiglia di una caduta film incredibile a fine marzo mi pare il 21-22 marzo arriverà su Mubi se ancora non l'avete visto guardatela è spettacolare ne ho fatto anche la recensione Emingson è finito però nel calderone della polemica perché un altro regista un altro sceneggiatore tale Stevenson dice che in realtà Emingson ha copiato una sua sceneggiatura quella di un film chiamato Frisco che non è mai stato poi messo in produzione pare che abbia copiato tutto spudonatamente che ci sono alcuni passaggi che non hanno neanche cambiato sono identici ora io non ho letto la sceneggiatura di Frisco quello che fa pensare che possa essere vero infatti c'è un'indagine in corso è il fatto che è Emingson lo sceneggiatore di The Old Overs avrebbe letto un paio di volte gli è passata sotto mano un paio di volte la sceneggiatura di Stevenson e che quindi lui l'avesse letta ed è sospetto che poi si inesca con un film che a detta di Stevenson è identico vai a sapere ma in ogni caso non ha vinto ha vinto in un altro video caduta assolutamente meritatamente perché per me è un film incredibile ed è un film che se avessi vinto anche il miglior film per quanto io abbia amato Oppenheimer non mi avrebbe creato problemi perché è comunque una pellicola di altissimo livello miglior film internazionale io capitano di Matteo Garrone la zona di interesse di Jonathan Glazer Perfect Days di Wim Wenders la sala professori di Ilker Chattac e la società della neve di Juan Antonio Baiona ha vinto ovviamente la zona di interesse che di questa cinquina era l'unico che era anche candidato come miglior film quindi se tra i cinque del miglior film internazionale ce n'è uno che viene giudicato un meritevole di concorrere per il miglior film quale sarà il miglior film internazionale? l'unico che ha giudicato un meritevole di concorrere per il miglior film in generale è ovvio e quindi ha vinto la zona di interesse un film crudo che mi ha veramente distrutto e che per me è una cosa ottima che abbia vinto miglior film d'animazione Il ragazzo è l'airone Spider-Man Across the Spider-Verse Elemental Nimona e il mio amico robot ha vinto per me assolutamente senza sorpresa il ragazzo è l'airone poi è vero che Across the Spider-Verse ha vinto un po' di più rispetto al ragazzo è l'airone nella stagione dei premi però per quanto mi riguarda poteva essere solo Miyazaki a vincere questo premio sono contento per quanto io ami Spider-Man Across the Spider-Verse per me è il ragazzo è l'airone su un altro livello totale sotto ogni punto di vista film incredibile terzo Oscar per Miyazaki uno vinto per la città incantata uno alla carriera e questo per il ragazzo è l'airone sono contentissimo e anche questo premio è un altro premio alla carriera perché comunque è un uomo molto anziano ha più di 80 anni si spera che viva fino a 200 anni però al di là di quello al di là del fatto che ormai è anziano c'è proprio anche il fatto che film come quelli richiedono un'energia incredibile per lavorarci e Miyazaki non so quanto ce ne abbia ancora quindi per me è stato giusto premiarlo perché il film era fantastico ed è stato uno dei premi che hanno sorpreso di più le persone io non sono stato sorpreso anche perché A Cosa di Spider-Verse è una parte 1 quindi è come se fosse il primo tempo di un film lunghissimo e in secondo luogo c'è stata la polemica sullo sfruttamento degli animatori poi alcuni hanno detto perché se Cote in Giappone non fa la stessa cosa sì ma in Giappone è quella la cultura lavorano tantissimo con un grande impegno perché di cultura loro devono dare sempre il massimo certo la sto semplificando però avete capito cosa intendo quindi da noi è considerato assolutamente o da loro è semplicemente una normale giornata lavorativa non che sia giusto attenzione ma è un contesto culturale completamente diverso molto semplicemente quindi è un'altra cosa secondo me miglior film da me miglior fotografia allora Edward Lachman per El Conde Hoitevano Hoitema per Oppenheimer Rodrigo Pietro per Killers of the Flower Moon Robbie Ryan per Poverle Creature e Matthew Libatic per Maestro ha vinto Oppenheimer anche qui l'avrei dato a Killers of the Flower Moon perché la fotografia lì era fantastica però sono contento che abbia vinto Hoitevano Hoitema perché anche quella di Oppenheimer non era affatto male soprattutto le parti bianco e nero erano di un'eleganza straordinaria a livello di fotografia miglior scenografia e qui arrivano i premi a Poverle Creature perché c'erano Sarah Greenwood e Kathy Spencer per Barbie James Primes Sean Heath e Zusa Mialek per Poverle Creature Jack Fiske Adam Willis per Killers of the Flower Moon Arthur Max Ellie Griff per Napoleon Ruth De Jong e Claire Kaufman per Oppenheimer ha vinto Poverle Creature e ci sta perché le scenografie erano fantastiche certo qui non mi sarebbe dispiaciuto se avesse vinto Barbie ma Barbie lo sapevamo non ha vinto quasi nulla tranne un premio e a me fa ridere che ci siano persone che si stanno lamentando ragazzi semplicemente Barbie non era meritevole di altri premi oltre a quello che ha vinto può essere un film che è piaciuto può essere un film che è stato importante a livello pop culturale ma se parliamo di livello tecnico e cose del genere scusate ma non è un film che poteva realmente concorrere con gli altri in gara perché lo hanno messo solo per dargli dei contentini è brutto non lo so ma è così e infatti il risultato parla da sé e parla da persona che non odia Barbie ma che non lo apprezza in toto ma comunque non lo odio assolutamente migliori costumi Holly Waddington per Poverle Creature Jacqueline Duran per Barbie Jacqueline West per Kilos of the Fire Moon Ellen Mirojnik per Oppenheimer Jean-Ti Yates e Del Crosman per Napoleon e per la West per Kilos of the Fire Moon ha vinto Holly Waddington per Poverle Creature come dicevo guardate quanti premi dati a donne dell'industria che erano meritevoli di una premiazione in questo contesto tantissimi anche qui i costumi di Poverle Creature direi che non sono contestabili sono ottimi belli anche a quelli di Barbie sì ma ho preferito quelli di Poverle Creature quindi premio per me meritato miglior trucco a concetura Karen Hartley Thomas Suzy Sa Buttersby e Asher Akelly Blue per Golda Kazuhiro Kai Yorgyu e Lori McCoy Bell per Maestro Nadia Stacey Marc Cuglier e Josh Weston per Poverle Creature Luisa Bell per Oppenheimer Anna Lopez Puig Server David Marti e Monseribè per la Società della Neve ha vinto Poverle Creature anche qua giustissimo anche se a me non dispiaceva il trucco di Oppenheimer che era un trucco invisibile cioè meno si notava di meno rispetto a Oppenheimer rispetto a Poverle Creature però ci sta che aveva vinto a Poverle Creature che aveva un trucco un po' più smaccato anche per esempio per il personaggio di Will and Defoe ci sta dai migliori effetti visivi questa è un'altra godutina perché è un premio storico J. Cooper Jacomle Andrew Roberts e Neil Corbold per The Creator Stefani Ceretti Alexis Weisbrot Guy Williams e Theo Bialek per Guardiani della Galassia volume 3 Alex Vutke Simone Coco Jeff Sutherland e Neil Corbold per Mission Impossible Dead Recon in parte 1 Takashi Yamazaki Kiyoko Shibuya Masaki Takahashi e Tatsugi Nojima per Godzilla Minus One Charlie Enley Luke Iwen Martin Fenuier Simone Coco e Neil Corbold per Napoleon ha vinto ha vinto Godzilla Minus One perché premio storico a parte il fatto che il team candidato non ci credeva quando li hanno nominati quando hanno nominato il loro nome per ritirare il premio ma perché io purtroppo il film non l'ho visto e ci sono persone che non hanno capito niente perché snobbatto Godzilla Minus One non l'ho snobbatto è che l'hanno distribuito col culo e non sono riuscito a guardarlo non è colpa mia se lo davano a 40 km da casa mia alle 5 del pomeriggio che come cazzo facevo ero troppo impegnato in quel periodo non potevo andare a vederlo a quell'orario sulla distanza chi se ne frega ci andavo anche ma era l'orario che per me era impossibile non è colpa mia cazzo ma vabbè comunque sia il film è il primo non occidentale a essere candidato in questa categoria ed è il primo non occidentale a vincere premio assolutamente storico film costato 15 milioni che pare abbia degli effetti visivi di un blockbuster da 150 per cui premio anche se non ho visto i film direi meritato o comunque ho visto un po' come hanno fatto gli effetti ho visto le clip e tutto effettivamente gli effetti sono fantastici per cui bene così miglior montaggio Lorenz Neschal per l'anatomia di una caduta Kevin Tent per The Old Overs Jennifer Lame per Oppenheimer Yorgos Mavrus Psaridis per Povere Creature e Thelma Scummaker per Killers of the Flower Moon ha vinto Jennifer Lame altra donna faccio notare per Oppenheimer meritatissimo perché ha un gran bel montaggio non mi sarebbe dispiaciuto la Scummaker per Killers of the Flower Moon ma va bene anche così miglior sonoro questa è un'altra sorpresina Ian Voight Eric Haddall Ethan Van Der Ryn Tom Ozanich e Dean Zupancic per The Creator Stephen A. Morrow Richard King Jason Ruder Tom Ozanich e ancora Dean Zupancic per Maestro Tarn Willers e Johnny Byrne per la zona di interesse Willie Barton Richard King Gary A. Rizzo e Kevin O'Connell per Oppenheimer Chris Marrow James H. Mather Chris Bardon e Mark Taylor per Mission Impossible The Dragon in parte 1 ha vinto Emilio Sonoro la zona di interesse tutti pensavamo avrebbe vinto Oppenheimer ma effettivamente io continuavo a dire però attenzione perché la zona di interesse si basa interamente sul sonoro è ciò che regge il film e infatti ha vinto e per quanto io abbia amato il sonoro di Oppenheimer la scena della bomba sia qualcosa di fantastico a livello di suono il sonoro della zona di interesse è troppo fondante per il film da non pregnarlo quindi sono d'accordissimo così migliore della zona originale c'erano Laura Cartman per American Fiction John Williams per Indiana Jones il 40 del destino Ludwig Goranson per Oppenheimer Yes Kim Fendrix per Poveri Creature e Robbie Robertson per Killers of the Fire and Moon concordo con quelli che dicono che Poveri Creature è una colonna sonora pazzesca ma ha vinto Goranson e meritatamente anche perché poi la canzone è diventata super virale la sentivamo dovunque su TikTok su Instagram è bellissima e quindi sono contento peraltro se non sbaglio è il secondo Oscar perché l'aveva preso anche per Black Panther lì per me non meritatissimamente la colonna sonora era normale qui invece per me il merito c'è al 100% miglior canzone originale The Fire and Inside da Fleming Hott What Was I Made For che è quella di Billie Eilish e Finer's Corner per Barbie I'm Just Can per Barbie It Never Went Away di American Symphony Wajaji di Killer Story by the Moon A Song For My People sarebbe la traduzione ha vinto What Was I Made For per Barbie io l'avrei dato da I'm Just Can però va bene così la performance di Ryan Gosling è stata fantastica ma non si vota la performance bensì la canzone e quella dell'Eilish ha scalato molto le classifiche quindi ci sta per il miglior documentario ha vinto 20 Days in Maripol di Mstislav Cernov che ha fatto un bellissimo discorso ripeto andate a recuperarvelo miglior cortometraggio documentario ha vinto The Last Rapper Shop di Chris Bowers e Ben Proudfoot miglior cortometraggio ha vinto Wes Anderson per la meravigliosa storia di Harry Sugar e qui sono contento peccato che non ci fosse a ritirarlo perché è il primo Oscar che vince per un cortometraggio per carità ma non è che valga di meno è comunque un Oscar e il cortometraggio lo trovate su Netflix con Benedict Cumberbatch protagonista bellissimo insieme agli altri tratti dai racconti di Roald Dahl che trovate per l'appunto sempre su Netflix fatti sempre da Wes Anderson infine miglior cortometraggio animazione War Is Over inspired by the music of John Yoko che è molto carino di Dave Mullins e quindi ecco qua Oscar onorari ad Angela Bassett come Brooks e Carol Littleton che sono stati però già assegnati settimane fa insomma una cerimonia molto particolare per me una delle più equilibrate con il livello più alto degli ultimi anni quest'anno era veramente dura e anche infatti le sorprese che ci sono state mi hanno colto assolutamente positivo nel vedere questa cosa non ci sono stati momenti in cui ho detto che è ladrata no altri anni se vi ricordate assolutamente sì quindi quest'anno veramente un'ottima cerimonia poi un po' lentina all'inizio più interessante nella seconda parte un po' moscia in alcuni momenti però chi se ne frega il livello era talmente alto che il tutto ha sopperito ad eventuali mancanze quindi fatemi sapere in un commento qui sotto cosa ne pensate voi secondo me è stato comunque è stata una bella annata io vi abbraccio vi ringrazio grazie per averci seguito in live ancora una volta grazie per questo e noi ci vediamo al prossimo voi vlog ciao a tutti